Prima la corsa alle mascherine, poi la richiesta dei vaccini ed ora quella del Green Pass in farmacia per il quale bastano solo pochi minuti. Tante le richieste anche per i tamponi rapidi necessari per una carta verde temporanea. Al contrario i test sierologici, cioè i pungi dito, non si utilizzano quasi più. Principalmente richiedono il tampono persone che si devono spostare per motivi di lavoro, per motivi di piacere, che devono comunque partecipare a congressi anche se vaccinati, perché comunque è richiesto ugualmente. Per i test salivari invece, i cosiddetti lecca lecca, si è ancora in attesa delle linee guida. Una delle possibilità, come spiega il presidente provinciale dell'ordine dei farmacisti, è quella degli autotest, che possono essere fatti comodamente a casa. Ma il farmacista si deve accertare che l'acquirente conosca bene le modalità per l'utilizzo, in modo da minimizzare i possibili errori di esecuzione, che potrebbero portare a dei falsi negativi. Vengono richiesti in particolare da coloro che hanno sintomi. Perché in farmacia non possono essere effettuati dei test a persone con sintomatologia respiratoria o con febbre superiore a 37,5 gradi centigradi. Però se uno lo fa a casa poi non viene documentato. Esatto, se uno lo fa a casa poi non ha nessuna certificazione, quindi non è valevole per il discorso di Green Pass o altro. Il certificato verde, prosegue Pierini, può essere stampato in farmacia. A Fano tutte hanno aderito gratuitamente per aiutare i cittadini. Le farmacisti sono resi disponibili a questo servizio per venire incontro, soprattutto alle persone un pochino più anziane o che hanno poca dimestichezza con i sistemi informatici, per ottenere questo documento. Richieste in aumento sia per i test che per i Green Pass in tante farmacie della città. Ci sono molte richieste per i tamponi? Chiaramente da quando è uscito l'obbligatorietà del Green Pass abbiamo tante richieste in più, li effettuiamo su prenotazione al prezzo calmerato di 18 euro. Invece per la certificazione verde come funziona? Basta presentarsi semplicemente con la tessera sanitaria e recuperiamo e stampiamo il Green Pass. Chiaramente sappiamo che ne ha diritto chi ha effettuato o la prima o la seconda dose. Generalmente dalla seconda dose si prendono più o meno 24-48 ore prima di poterlo stampare. Si parla di un boom di richieste, effettivamente sono tante? Esatto, come dicevo prima per i tamponi sono aumentate tantissimo, giustamente, visto la necessità che c'è.